Salve tutti chiudeliani e bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft, oggi siamo sulle Skywars Ragazzi io vi invito subito a lasciare un bel pollicione in su, a condividere, a commentare, a iscrivervi e buona visione Ok signori oggi siamo su Wild Adventure Wild Adventure è un server molto molto carino, abbastanza semplice che ho trovato online Dove c'è la possibilità di fare le Skywars e tutte queste belle cose qua Ale, vediamo subito cosa è successo, ok, madonna che bella skin che c'hai tu, mi piace Charlotte, molto bella, ma qual'è la testa? Ok, allora signori, visto che io ho di coins e in questo server non ho praticamente nulla Non compreremo niente all'inizio, quindi ci dovremmo arrangare da noi Visto che le Skywars come sappiamo tutti è un gioco molto molto brutale Dove deve essere molto molto cattivo e aggressivo per vincere Ok, vediamo un attimo cosa abbiamo nelle nostre chest Abbiamo legno, carne da pesca, cordicella, uovo L'uovo è molto importante anche se non sembra signori Ha la stessa funzione dell'arco anche se è molto più complicato diciamo Pozioni di degenerazione e guarigione, bene, bene Oh, mi serve un'altra cordicella per fare un arco Allora, in questo episodio vorrei andare a fare l'assalto diciamo a tutti Perché comunque ho scoperto che giocare nelle Skywars devi giocare in un modo molto molto bello Tipo che io adesso potrei provare a buttare giù quello lì Che so che va verso la cesta però perché è stronzo Quello cazzo mi guardi, cosa guardi? Il problema è che qua devi guardarti alle spalle molto perché comunque ti attaccano dalle spalle E neanche un minuto dopo Ah, sì, l'ho fatto cadere Ah, l'ho fatto cadere con le uova Le uova sono Gesù Cos'è? Ricomplesso l'uccisione? Ma cosa ci faccio con la bontia di incantagione? Tiriamocene addosso, va bene così, va bene Io ho paura di andare in quella cesta perché comunque so che mi buttano giù Però noi ci andiamo comunque Ok, fonte sega, noi andiamo, 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 andiamo C'è poco tempo perché qua basta che ti sparano con un colpo d'arco di uovo o di pallone di neve e ti fanno cadere qui Allora, vediamo quali ci vedono il nostro amico Fonzi qua Ok, io non ho neanche una spada tra l'altro, signori Facciamoci subito una crafting che non ho fatto prima perché mi sono dimenticato Poi direi anche di farmi una bella ascia anche se non serve molto qua nelle skywalk A meno che non abbia il legno da prendere Adesso ci metto nella mia base personale, personalizzata Lì c'è ancora qualcuno, non lo so Siamo rimasti in tre, signori In quattro, in quattro, in quattro In quattro, in quattro, ok Ok, cosa sta esplodendo dietro di me? C'è una paura fottuta Ok, cosa c'è? Vieni tutto, vieni tutto, vieni tutto Senza guardare, senza guardare Oh, che bene, l'acqua è molto importante Tre giocatori rimanenti, signori Tre giocatori rimanenti Mi servirebbe un'altra corticella per fare un... Ma cosa sta esplodendo là fuori? Ok, perfetto Qua cosa c'è? No, mi stai sembrato sbagliato Ok, qua non c'è niente Le scale dove sono? Quassù Andiamo Io mi sto spostando di isola in isola Intanto che loro si stanno ammazzando fra di loro Non so se si prende la cesta centrale oppure no Perché ho paura che poi mi vedano E se mi vedono poi è un po' un casino Allora, io me ne vado quassù Ho vinto! Signori, ho vinto! Prima partita di Skywars La vittoria Ci riproviate Non pensavo di vincere, sinceramente Ehm, veramente Era una partita abbastanza... Normale Non pensavo di vincere No, le mappe della Mongolfiera No, la mappe della Mongolfiera è brutta Non mi piace Oddio, quanto è buio qua dentro Ok, palle di neve Prendiamo tutto Perché Oh, che bene Le gambe di diamante mi servono Ok, adesso si è illuminato Qua cosa c'è? Una luce? No Ma qua c'è una cesta Ehm, è stato di no E infatti Madonna, quanto è grande Sì, però se non c'entro il buco Centrare il buco, signori, è difficile ultimamente Questo, 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 questo Questo E del danneggiamento che è molto, molto importante Ricordiamo Perché comunque No, stavo per farlo cadere Quello lassù, quello lassù, signori Oh Ok, non abbiamo nulla Cioè, nel senso Sono tutti qua, diciamo E questo è un problema di questa mappa qua È un problema Io me ne vo Io me ne vo Mi stanno sparando con l'arco Mi stanno sparando con l'arco Questo potrebbe essere un piccolo problema Ok, ok Andiamo Poi Ehm, niente Dark Joker sei tu? No, non sono io Ok, quello con l'arco è morto A lei che è caduto A lei che è andato A lei che è andato Io se ancora lì lo prendo da sopra Potrei provarci, eh Potrei provarci Potrei provare a fare un assalto Mi ha visto Mh, mh, mh Niente Oh, un altro è morto Siamo rimasti in quattro, signori In quattro Io sono ancora in questa posizione Perché sinceramente non so cosa devo fare Cioè, uno con l'arco Uno che lassù mi ha visto Guarda che si sono No, si sono alleati Bastardi Ok Ehm, devo pensare a cosa fare Questo potrebbe essere un piccolo problemuccio Così, eh Perché questi due si sono alleati Uno l'hanno buttato giù Ok Siamo rimasti in tre, ragazzi In tre Due contro di me, tra l'altro Che palle Ma veramente Ma vi siete alleati contro di me Ma siete proprio stronzi dentro Cioè, mi volete proprio male Stavo pensando a una cosuccia da fare Vai, sprecale, sprecale Ma cos'è due contro Due contro uno Non è possibile Oh, io vado contro le frecce Oh, signori Arrivano colpi di arco Quanto danno fa Quell'arco Signori Questo è un passo Molto grande per l'umanità Mi vergogno di quello che sto per fare Però mi tocca fare Allora, signori Io direi di fare un bel Hunger Games Ok, signori Sono tornato Ho fatto una piccola pausetta Perché Non avevo più Non sapevo più cosa fare Nel server di Wild Adventure Così Ho deciso di cambiare server Adesso sono su Parkercraft Quindi Sei in tributi E vai Vogliono giocare tutti con noi Ah, ok Posso scegliere La classe da avere Ascolta Andiamo con il vikingo Siamo in 11 tributi Che bello Che bello Yuhuu Yuhuu No Bellissima Bellissima Questa skin Tra l'altro io Guardate la skin che ho Non ho idea di cosa sia Mi si è messa così da sola Questo no Ah, proprio in tema Star Wars Bello Molto bello Poi c'è Steve C'è questo Doveva essere Assassin's Creed Forse Non lo so Prima ti dicevo Scusate Stavo facendo Faccio team con Big Monster Il mio primo team Sul canale In un server Sono contento Io corro 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 Aiuto Aiuto Guarda che corro Ma perché non corro Corri Non so dove sia Big Monster Perché sono Zombie Ma dove cazzo siamo In Walking Dead Oh mio dio Mi sa che siamo in Walking Dead Ma veramente Ma stiamo scherzando No è bellissimo Va bene Va bene Signori Allora Benvenuti nei 75esimi Hangar Games Di Minecraft Siamo ancora in 34 attributi Siamo nello stato di preparazione E non lo so Dovevo fare Dovevo fare Il team con uno Però non Non so dove sia Aia Ma come sono già morto Signori mi dite anche un modo per scaricare Magari il profilo di Minecraft Craccato Visto che Così almeno A giocare in Ok signori Ultima Minigames Del video Faremo un Lucky block Diciamo Una lucky race Che praticamente Tu devi rompere i lucky block E vedere cosa ti esce O fuori Saltiamo come Dementi Mi dite Dicevo come scaricare Un profilo Craccato di Minecraft Premium Lo so che non è proprio Il massimo di legalità Però a me non riesco a giocare Nel server del mineplex Così almeno ci sono Molte molto più cose Molto più divertente Se no me lo vedo io Come scaricarlo Ok Siamo qua Fra pochissimo inizierà Il lucky block Signori Tra 5 secondi Sarei teletrasportato No Dove sono teletrasportato No Cosa Cosa No L'ho shottato con un pugno Ok niente Ok Ossidiana Non ci faccio Sono quarto Ok Terra a gogo Non ci faccio niente Perché mi occupo tutti gli sblocchi Oh che cazzo Ok Qua non so cosa ci sia Ok Pozione a gogo Ok qua Quanti diamanti 45 diamanti Sono ricco Sono ricco Quanti creeper Cosa sta facendo quello lì Vai vai Andiamo verso la gloria Vai 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 Che cazzo Come lo rompo Ma se io rompo le sca... No sto perdendo posizioni Ok vai di qua Perfetto Non è proprio legale Non so se si facesse così LOL C'è scritto Ok terra Non mi serve niente Una chest Un secondo Sono secondo Sono secondo A chi non piacciono Quattro cagnolini Oh cazzo No 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 Ultimo Da ultimo Da secondo a ultimo Signori Si potrà Ma dai Stavo andando così bene Cos'è una pila di maiali qua Guarda qua Vai 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 Guarda quello che ha fatto Le scalette Col portale del land Ma proprio c'è crisi Dai levati Madonna mia Come perdo del tempo Aiuto Lagga Laghicchia Non so perché Vai 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 Lavati Non c'è niente Ok Siamo quarti Aiaia Aiaia No 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 Che palle Cazzo Dai no 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 Salve signor villico Buongiorno Lì c'è ancora Lì c'è ancora quattro piedi di maiale Perché ci sono delle piedi di maiale Sopra un villico Cazzo No 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 E vabbè Sì aiuto Aiuto Guardate Cosa sta arrivando Contro di me Cosa Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Prendiamo le underpearl e usiamo l'intelligente Nooo Dai Quindi signori io vi ringrazio per la visione Spero che questo video vi sia piaciuto Se così lasciate tanti bei pollicioni in su Io vi invito a passare dalla pagina Facebook e Instagram Come il video nella descrizione Vi invito a lasciare anche un bel mi piace E di iscrivervi e condividere Ma soprattutto commentare Che è quello che mi interessa di più Ci vediamo domani con un nuovo video alle 3 Sempre di Minecraft probabilmente E niente Da chi è tutto E ci vediamo al prossimo